Ciao bambini, oggi leggiamo l'alce Gustavo. Vediamo un po' chi è Gustavo. Gustavo potrebbe essere in tutto per tutto un alce normale. Ama passeggiare nei boschi, mangiare funghi mirtilli, spaventare gli automobilisti. La sua vita potrebbe trascorrere tranquilla e serena come quella di tutti gli altri alci. Potrebbe, questo è il punto, perché in realtà Gustavo non è affatto un alce come tutti gli altri. E vediamo il perché. I problemi cominciarono subito. Gustavo nacque con delle corna gigantesche. Non si era mai visto un cucciolo di alce con delle corna tanto grandi. Le corna procuravano un sacco di problemi al piccolo Gustavo. In più, i suoi amici lo prendevano continuamente in giro. Ehi Gustavo, vuoi venire qui da noi? Però devi attraversare il bosco, amico mio. E guardate la faccia di Gustavo. È sempre più perplessa. Povero Gustavo. Spesso Gustavo tornava a casa con dei bernoccoli bestiali. Bang! Andava sempre a sbattere contro un tronco. Gustavo divenne un solitario. Gli piaceva passeggiare nel bosco, ma le corna si incastravano fra i tronchi. Così doveva girare continuamente la testa per farle passare per il lungo. Era ridicolo a vedersi, ma non c'era altra soluzione. Gli piaceva anche sbucare all'improvviso sulla strada, per spaventare gli automobilisti. Ma no, Gustavo, non si fa! Ma la cosa che Gustavo preferiva era rimare sul mare calmo del nord. Un giorno però accade un guaio. Gustavo stava tornando a casa attraverso il bosco, quando due orsi gli vennero incontro. Gustavo non andava d'accordo con gli orsi, ma sapeva di potersi difendere con le corna, in caso di necessità. Infatti, guardate cosa succede. Ehi, Gustavo! Femminuccia! Gustavo! Femminuccia! Fatti avanti! Gli orsi continuavano a prenderlo in giro e Gustavo si arrabbiò. Così iniziò correre verso di loro e crack! Gustavo andò a sbattere contro un tronco e il suo corno si rompe. Ora Gustavo aveva un solo corno sulla testa. Era definitivamente diventato un caso unico tra gli altri. Gustavo però non era il tipo da lasciarsi demoralizzare, anzi, in pochissimo tempo scoprì che col suo corno poteva fare un sacco di cose. Poteva usarlo come rema per andare in barca, come racchetta per sciare, come assa per passare da una parte all'altra, come canna da pesca per pescare pesci. E venne anche il giorno, cari bambini, in cui, con l'aiuto del suo corno rotto, dieve una bella lezione ai due orsi che conosciamo già. Tuttavia Gustavo era piuttosto preoccupato riguardo il suo futuro professionale. Di solito gli alci si guadagnano da vivere nel periodo natalizio. Chi si fa attaccare una slitta, chi si mette in mostra nei negozi, chi si fa fotografare, chi passeggia al lato delle piste, chi spaventa gli automobilisti. Qualcosa da fare c'è sempre, ma per fare tutte queste cose sono necessarie entrambe le corna. Ogni alce che si rispetti deve avere un corno a destra e una a sinistra. Non sono ammesse eccezioni alla regola. Un giorno Gustavo, come era sua abitudine fare, se ne stava appostato sul ciglio della strada, in attesa di qualche automobilista da spaventare. Non appena sentì il rumore di una macchina si nascose dietro l'albero. In realtà non era proprio il rumore di un'automobile normale, piuttosto quella di un vecchio cattorcio. Quando il frastuono fu abbastanza vicino, Gustavo balzò fuori, sporse il corno come fosse la paletta di un vigile e ordinò, ALT! Controllo del traffico! Gustavo si aspettava che l'automobilista si prendesse un graspa vento. Solitamente succedeva così. Tuttavia, questa volta, le cose andarono decisamente in modo diverso. Adesso però, bambini, visto che la storia è un po' lunga, io mi fermo qua. Se vi è piaciuta, però, vi aspetto domani, sempre alle 18, per vedere cosa succede tra l'alce Gustavo e Babbo Natale, perché ormai, ve ne siete già accorti, stava arrivando Babbo Natale. Allora, domani, bambini, ciao! 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 Grazie a tutti.